Si trascinano le problematiche legate al mancato completamento della ricostruzione post-sisma del 2002. A Rotello ci sono famiglie che a distanza di 16 anni vivono ancora nei moduli provvisori. Il sindaco Michele Perrotta lancia l'appello al governo regionale. Nell'area in cui ci troviamo, dove ci sono i prefabbricati scolastici, a poca distanza ci sono anche le casette di legno che ospitano ancora le famiglie che non sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Quindi parliamo sempre del sisma del 2002. Innanzitutto, sindaco, le chiedo lo stato di avanzamento della ricostruzione del 2002 a che percentuale è arrivato? Indicare una percentuale anche ad oggi non è estremamente semplice, perché i problemi sono noti. Il problema principale è quello del ritardo nei pagamenti, purtroppo alle ditte. Altrimenti penso che la ricostruzione, secondo il mio modesto parere, sarebbe conclusa fondamentalmente. A questo aggiungi che ad oggi, come hai notato venendo qui a scuola, siamo proprio nel villaggio provvisorio che attualmente è pieno, il rotello, il villaggio provvisorio è pieno. Non tutti gli abitanti del villaggio sono quelli che hanno lasciato le abitazioni per il terremoto. Le domande ad oggi sono chiuse, nel senso che nessuno ci ha fatto richiesta di dover uscire da casa per entrare nel villaggio temporaneo. Però un buon 70% è ancora al villaggio, aspetta sfortunatamente di poter rientrare a casa fondamentalmente. Parliamo in particolare anche di persone anziane, soprattutto, vero? Certo, ci sono anche le persone anziate, è quello dispiace, soprattutto perché le difficoltà sono maggiori rispetto a una famiglia giovane, per ovvi motivi fondamentalmente. Appunto ne abbiamo sottolineati questi problemi anche nella riunione fatta a Campobasso con il Presidente Toma. Abbiamo parlato di questa ricostruzione, di come sia necessaria una nuova proroga, purtroppo, per completare i lavori e spero che il Presidente lavori bene. Quindi il 2020 non sarà il termine, secondo voi, definitivo per poter completare la ricostruzione del 2002? Il 2020 potrebbe essere un termine conclusivo. Ovviamente, diciamo, se si realizza una condizione molto semplice a dirsi, fondamentalmente a farsi tutto un altro paio di maniche, cioè quello di pagare tempestivamente il stato di avanzamento. Pagando tempestivamente il stato di avanzamento, le ditte sono sicuro che riusciranno a mantenere fede a questo obbligo.